C'è un posto che rinasce, Castelnuovo d'Avane, che ha vinto il bando in tutta Italia, come uno dei migliori borghi d'Italia, da rinascere, da rivalorizzare. E perché abbiamo trovato con la Coine un posto ideale per rispettare i migliori artisti italiani e anche due delle star, diciamo, future, che sono Frida, Bollani, Magoni e Alina Pasch, che viene dall'Ucraina, che non è un caso perché è proprio un messaggio che vogliamo dare di sostegno a questo paese, a questi artisti. Un'edizione dedicata al sostegno della fine della guerra in Ucraina, in sintonia e condivisione con Europe, la federazione europea di 90 festival rock in cui Arezzo Wave rappresenta l'Italia, con un concerto di Alina Pasch. Arezzo Wave Love Festival, giunto alla sua 36esima edizione, quest'anno arriva così a Cavriglia, dividendosi tra il Teatro Comunale e il Museo Mine nel fine settimana del 7, 8 e 9 ottobre. Quindi un modo per proporre ai giovani e ai meno giovani questa grande, frizzante energia, positività che Arezzo Wave ha sempre portato, non soltanto in città, ma in Italia, in Europa, mi viene da dire, anche nel mondo ultimamente. Protagoniste di questa edizione saranno due donne, la cantante ucraina, Alina Pasch, e la giovanissima pianista toscana, Frida Bollani-Magoni. E lei aveva smesso i concerti, ma fa questa data ultima, in ciusura di Arezzo Wave, solo perché siamo amici e perché, insomma, volevamo premiarla con la migliore artista che ha suonato per noi all'estero. E Alina Pasch è una delle più grandi artiste della musica ucraina e quindi il sabato sera, a conclusione dei 9 artisti del sabato e dei 10 della domenica, saranno loro le star. Il biglietto costa solo 2 euro, che diamo completamente in beneficenza per il calcit di Cavriglia. Le prevendite ci saranno a Cavriglia dalle 5 alle 6 di ogni sera, da lunedì prossimo. Un'edizione tra sociale e territorio che vede anche la collaborazione della cooperativa sociale Coine. Noi consideriamo Arezzo Wave veramente un'eccellenza del territorio e abbiamo dato una mano in coerenza con la nostra missione, che è quella di contribuire a preservare spazi di espressione per le persone, in questo caso per i giovani, in particolare per i ragazzi, e per provare a creare su questo opportunità ulteriori di sviluppo.